ciao a tutti ragazzi sono qua quest'oggi per parlarvi dei nuovi episodi di diavoli la serie tv in onda settimanalmente su sky tratta dall'omonimo romanzo di guido maria brera se avete visto le mie scorse recensioni dedicate agli episodi precedenti saprete che sto letteralmente amando alla follia questa serie anche gli episodi 5 e 6 andati in onda il venerdì appena trascorso mi sono piaciuti tantissimo anzi vi esordo vi esorto scusate a chiudere qua il video se non li avete visti perché ora spoilererò e quindi entrerò proprio nel dettaglio e ne parlerò approfonditamente io vi ho avvertito dunque nell'episodio 5 sempre diretto da nick harran dal bravo nick harran scopriremo molte più cose sul passato di massimo ruggiero nel corso degli episodi precedenti ci siamo fatti tante domande riguardanti massimo ruggiero e forse qua il quadro della situazione risulterà più limpido e chiaro anche perché grazie a questo ottimo montaggio a questa ottima regia torneremo nel 2006 la storia si svolge nel 2011 lo saprete ma si torna nel 2006 quando il nostro massimo ruggiero è diventato head of trading il giorno in cui dominic morgan lo inviterà insieme alla moglie che da poco si era disintossicata ai tempi stavano ancora insieme nel suo villone nel suo villone dove gli farà conoscere i pezzi grossi ecco quel giorno sarà fondamentale per la carriera di massimo ruggiero ma sarà disastroso per quanto riguarda per quanto riguarda la relazione perché risulterà disastroso beh perché subito ci renderemo conto che quelle persone in giacca e cravatta che dovrebbero aiutare il prossimo che hanno ovviamente la voglia di mostrarsi come persone per bene in realtà come forse dirà nel migliore dei modi la moglie ubriaca perché in vino veritas sono solamente persone che se la rifanno con i deboli e che cercano di arricchirsi sempre di più senza guardare in faccia nessuno nemmeno quelle persone che dicevano che avrebbero voluto proteggere e quindi ecco che dopo che la moglie si è sentita dire delle cose bruttissime da parte delle mogli di questi pezzi grossi si ubriacherà dopo tanto che non toccava alcol dirà la verità in modo brutale di fronte a massimo ruggiero nel giorno che dovrebbe essere uno dei più importanti se non il più importante della sua carriera e quindi le faccende si complicheranno perché dopo questa litigata in macchina lei lo lascerà e scopriremo che è stata nina la moglie di dominic morgan a consigliarle di andare via quindi se fino all'episodio precedente avevamo un alone di mistero sul personaggio di massimo ruggiero qua la faccenda è diventata più chiara e limpida e tutto l'episodio continuerà con questa alternarsi passato presente passato presente 2011 2006 anche perché nel 2011 è scomparsa nina doveva portare i figli di ed stewart in piscina è scomparsa e quindi il nostro dominic morgan chiamerà massimo ruggiero per farsi aiutare a ritrovarla in realtà sotto sotto c'è un secondo fine i due si scrutano e in questa puntata senza l'utilizzo di alcuna parola attraverso dei primi piani riuscitissimi e delle inquadrature perfette sui volti dei nostri protagonisti scopriamo quanto si possa dire senza nemmeno parlare una volta sì perché si percepisce che c'è qualcosa di teso fra i due perché si percepisce che i due si stiano analizzando in continuazione eppure la bellezza della regia la pulizia della regia la bellezza del montaggio l'alternarsi dei primi piani senza l'utilizzo di una parola fa capire che qualcosa non va una grandissima scena quella assolutamente non didascalica ma che centra l'obiettivo al 100% perché noi spettatori in continuazione pensiamo caspita qua c'è quel non detto che fa unire ancora di più i due fino poi magari a portarli a scoppiare in un momento in cui noi non ci potremmo aspettare infatti così accade sul finale perché dopo che la moglie è stata ritrovata dopo che questo flashback continuo ci fa anche capire che massimo ruggero è andato a letto nel 2006 quando c'era il borghe col capello lungo era ancora nella fase del primo rally no sto scherzando ovviamente scopriamo che c'è andata a letto scopriamo che dominic morgan lo sapeva lo sapeva guardate i giochi di macchina da presa sul volto guardate l'inquadratura sul volto di di dominic morgan quando massimo ruggero dice sì sì ce l'ho portato una volta nel cottage sì sì ogni anno viene a cambiare qua al cimitero guardate guardate le inquadrature sul volto i primi piani sul volto di dominic morgan senza l'utilizzo di una parola si capisce già tutto noi lo sappiamo che dominic morgan lo sa e alla fine alla fine ricordiamocelo arriverà il suo momento di ribellarsi e come si ribella e vabbè schiaccerà mostrerà sbatterà in faccia massimo ruggero la verità io so che il tuo caro oliver harris ha hackerato il var lo so lo so caspita e sappiamo che massimo non c'entrava niente che alla fine agito oliver harris e il team di massimo ruggero eppure come scopriremo poi nell'episodio 6 si darà vita alla vendetta di dominic morgan allora te intanto perderai il tuo posto da head of trading perderai il tuo posto non lo sarai più head of trading allo stesso tempo al tuo posto prenderemo paul quello che tu hai licenziato tu tornerai un semplice trading normalissimo e se proverai a licenziarti io ti denuncio quindi lui non può andare ad arricchirsi altrove ecco che il piano la vendetta la strategia di dominic morgan si mostra in questo finale bellissimo anche se poi le conseguenze le vedremo nell'episodio 6 e quindi che cosa posso dire di fronte a questo episodio che riesce a renderci tesi dall'inizio alla fine ci tiene in tensione gli scorci sono bellissimi in questo posto dove è stato girato girato che non so dove sia questo cottage no dove dove i nostri protagonisti si ritroveranno e che posso dire è stato un episodio veramente dove i giochi di supremazia i giochi di potere hanno avuto il sopravvento massimo ruggiero deve stare zitto ma certo non si farà mettere i piedi in testa ed infatti nel sesto episodio diretto stavolta da jean maria michelini questo regista che tra l'altro ha diretto don matteo ma tra l'altro oltre ad aver diretto don matteo a diretto è stato anche aiuto regista ha lavorato sui set di molte altre produzioni dove al centro vi è la fede dalla passione di cristo con mel gibson guerra e pace quindi pensate un po voi a diretto poi anche a un passo dal cielo e delle stagioni di don matteo si dimostra molto bravo anche jean maria michelini perché praticamente prende le redini di nick harran che non so se tornerà alla regia dei prossimi episodi e porta avanti la situazione che si è conclusa nell'episodio 5 ecco che massimo ruggiero vuole insomma ribellarsi però senza creare casini vuole ribellarsi però allo stesso tempo senza creare un putiferio inutile sappiamo che massimo ruggiero riesce anche ad agire nell'ombra ecco che nell'episodio 6 vengono fuori i px i px px con due diciamo che questa che questo che questo termine è stato è stato coniato quando si parlava di alcuni paesi con i conti non proprio apposto in europa e quali erano questi paesi portogallo irlanda italia grecia e spagna solo che questa sigla unita insieme beh faceva pensare a px px a maiali e ai porci ai maiali ecco che in questa in questa puntata praticamente scopriamo che questa idea ce l'ha avuto ce l'ha avuta il nostro intelligente oliver harris e che è stata coniata proprio dalla nostra banca londinese dalla n e lei io chiedo scusa se nelle scorse recensioni ho detto più volte che la banca si trovasse a new york chiedo chiedo ovviamente scusa ecco che in questo episodio il gioco di potere continua paul è stato ha preso il posto del nostro massimo ruggiero che allo stesso tempo vuole trovare a tutti i costi il fascicolo il fascicolo di ed stewart perché lui vuole capire cosa ci fosse scritto lì dentro lui vuole arrivare a far chiarezza perché ricordiamoci che ancora non sappiamo cosa sia veramente successo cosa abbia portato alla morte il nostro ed stewart e quindi comincerà questo doppio gioco dopo aver passato una notte di sesso con la nostra sofia praticamente si rivolgerà ai detective e dirà ai detective io vi porto il capo di subterranea questo gruppo anarchico per cui lavora sofia allo stesso tempo però voi mi dovete dare questo fascicolo e quindi inizia questo doppio gioco anche se poi massimo ruggiero si tirerà indietro perché si potrà essere un diavolo potrà essere uno che nella vita sempre pensata a se stesso al guadagno facendo finire in condizioni critiche i più deboli che avrebbe dovuto aiutare ma forse ora la redenzione sta avvenendo specialmente quando scoprirà che la morte del fratello di sofia è stata causata proprio per colpa sua perché quando in argentina c'è stato quel quel problema no bancario finanziario in cui tutti hanno perso tutto e che ha portato alla morte del fratello di sofia il fratello nella recensione vecchia diceva il padre pensavo fosse il padre invece rivedendo gli episodi è il fratello viene detto esplicitamente quindi chiedo scusa quando capisce che già ha ferito sofia quando ha capito che già per i suoi loschi traffici e affari si è arricchito facendo impoverire altri e mentre lui stappava champagne in banca dall'altra parte del mondo persone morivano ha detto no caspita non lo voglio più e quindi scappa in macchina al semaforo rosso scappa fugge va ad avvertire sofia di scappare al presunto incontro anche con il capo di subterranea le dice di scappare anche perché se veramente avesse consegnato il capo di subterranea alla polizia avrebbe tradito nuovamente sofia che non sa che ovviamente che si sa ha letto su internet che la banca festeggiava i tempi però chissà se sa per certo che è stato proprio massimo ruggero a portare avanti quell'ardito compito facendo indebitare la banca e facendo perdere tutti quei soldi in quel clamoroso problema reale perché è accaduto veramente del 2001 chi lo sa ecco che quindi decide stavolta di salvarla di farla scappare lei inizialmente lo tratta male ma poi tornerà a suonarli a suonargli a casa per ringraziarlo e gli porterà il fascicolo e lui sorriderà non lo vediamo quasi mai sorridere massimo ruggeri ora sorride sorride nel fascicolo è più volte presente il nome massimo ruggero e quindi chissà cosa accadrà nelle prossime puntate chissà cosa accadrà perché questo dopo c'è questa minima sorta di redenzione ma servirà servirà perché nella puntata lui dice a dominic morgan anche quando dominic morgan lo riprende per determinate per determinate cose che non aveva fatto secondo l'ordine di dominic morgan dominic dirà perché hai fatto questo è perché io ho fatto come mi ha insegnato tu mi sono fiondato contro i più deboli per arricchirci cioè capite forse massimo ruggero sta cambiando dominic morgan allo stesso tempo lo vuole manovrare lo vuole utilizzare come un burattino e quindi chissà cosa accadrà negli episodi precedenti negli episodi successivi ovviamente px alla ribalta anche in tv perché forse paul vende questi documenti e se all'inizio poteva sembrare che questi documenti arrivati in televisione andassero a far sprofondare l'indagine nascosta all'interno della nla allo stesso tempo scopriamo che forse era proprio il piano di dominic morgan quindi cosa vorrà far uscire fuori dominic morgan come vorrà ancora manovrare i suoi dipendenti cosa tenterà di fare cosa cercherà di fare ovviamente questo lo scopriremo solo vivendo io posso solo dire che anche gianmaria michelini porta avanti il tutto nel migliore dei modi secondo me nick harran riesce a ad essere più bravo ora come ora però gianmaria michelini l'ho visto in un episodio solo è stato veramente in gamba lo dovrei vedere negli altri episodi però quel che ora col senno di poi ripensando a tutti gli episodi ciò che ha fatto nick harran è veramente notevole anche solo pensare ripeto al gioco di montaggio al gioco registico di messa in scena nell'episodio precedente e negli scorsi episodi io amo anche quando non vi è molto didascalismo no quando una cosa arriva senza l'utilizzo di spiegazioni e di spiegoni inutili quindi ovviamente in questo episodio si parla anche in questi due episodi si parla anche della crisi finanziaria del 2008 non se ne può non parlare se ne parla e come e se ne parla bene se ne parla bene non è niente di abbozzato né di buttato li dico questo perché pensa ancora quanto è stata trattata male questa cosa in quel film aberrante le ragazze di wall street che a qualcuno è anche perché qualche a qualcuno è anche piaciuto comunque molto importante molto importante nell'episodio 5 il personaggio di casia smutniac casia smutniac che poi tornerà di nina cioè che tornerà anche nell'episodio 6 e che si vede che vuol cercare di riportare la pace fra i due anche se il marito sa anche se dominic sa che è andata a letto perché dominic fa andando a letto con mia moglie forse hai salvato il mio matrimonio e massimo ruggero risponderà e tu hai rovinato il mio quindi è sempre più importante questo personaggio che all'inizio era di contorno secondo me darà del filo da torcere ai protagonisti successivamente e ne sapremo secondo me molto di più però già il fatto che sia andata a ricercare massime che secondo me vorrebbe portare avanti anche questa relazione clandestina beh ci può far sospettare un po delle sue azioni future lei è ovvio che ha sofferto per la moglie per la morte del figlio perché anche nell'episodio 5 scopriamo che poi lei è tornata al cottage proprio per rivivere una giornata con i bambini con i figli di ed stewart perché le manca il figlio perché è morto in afghanistan il figlio che pur di star lontano dalla finanza e dal mondo malato del padre ha preferito morire piuttosto che morire interiormente trasformandosi in un diavolo ecco che questi episodi fanno molto riflettere ovviamente il tutto è collegato sempre con la vita vera con la vita reale ci sono sempre immagini della storia vera quindi si parla ovviamente di finzione scenica ma fino ad un certo punto perché si parla anche di realtà si vede bin laden insomma ragazzi è una serie che secondo me è fra le migliori di questi ultimi anni ed è una serie assolutamente bellissima nulla quindi su carri già saprete era stata coinvolta in questo giro di prostituzione era finita in carcere però l'aveva fatta uscire dominic morgan e questo massimo lo sa quando i due si batti beccano sempre però in punta di forchetta senza andarsi a offendere o altre proprio un gioco di potere bellissimo una lotta psicologica scopriamo che tutti e due si tengono un poveri testicoli però vediamo come proseguirà la faccenda vediamo un po la scena in cui lei si ubriaca nell'episodio 5 e palesa la verità davanti a tutti è fortissima quella scena perché poco prima si era sentita dire cose bruttissime mentre era in bane ma ricordato un po scream quando sidney si sente dire cose bruttissime nel bagno della scuola lei è rinchiusa e fuori le studentesse che ne parlano male anche qui parlavano male della sua galleria d'arte ma poi lei risponde proprio buttando il briscolone facendosi intendere però sappiamo che nina è stata proprio lei a farla andare via e poi nina lo andrà a dire a massimo chissà cosa ci riserverà il futuro chissà se possa nascere quindi una relazione stabile con sofia tra sofia e massimo visto che non l'ha più tradita però se verrà fuori il fatto del 2001 che è stato proprio lui l'artefice del tutto ma chi lo sa insomma ci resterà solo seguire i prossimi episodi venerdì prossimo ragazzi fatemi sapere la vostra mi raccomando qua sotto nei commenti scusatemi se ogni tanto dico delle castronerie ma beh dovete capire che seguendo un episodio per volte recensendolo senza far la recensione alla fine del tutto può darsi che abbia dei cambiamenti di pensiero ragioni ancora meglio su determinate cose quindi scusatemi se a volte ho detto che la banca era a new york se ho detto che si era suicidato il padre di sofia invece era il fratello scusatemi però insomma questo è anche il bello di vederle in diretta e recensirle una per una per voi ciao ragazzi